Ciao a tutti! Io mi chiamo Riley. Oggi per la prima volta consegneremo i nostri pixi crinkles. Questi qua. Mettiamo i pixi crinkles in una bellissima scatola. Vi piace? Però la mamma adesso mette il fiocchettino. Quale fiocchettino? Il fiocchettino rosso con delle neviche. Stelle di neviche. O sennò potrei anche farlo io e me lo insegnerebbe la mamma. Questi pixi crinkles sono stati fatti con amore per aiutare i bambini nelle Filippine. Questi biscotti sono buonissimi perché li abbiamo fatto io e la mamma. Se le volete anche voi scriveteci in privato. Mi raccomando seguitici e non dimenticate di farci un like su Pixi Smiles by Riley and Ryle. Grazie a tutti!